Ciao a tutti a Poderak, oggi vi parlo di Police Simulator Petrol Officer L'ho detto giusto? No, non penso di averlo detto giusto Comunque è uscito su console, Playstation 5, Playstation 4, Xbox È un titolo che è già uscito su PC Ha avuto anche un discreto successo secondo me Un gioco che è abbastanza piaciuto alla gente Con questo video perché sto facendo una recensione piuttosto che un gameplay Perché mi sono accorto facendo il gameplay Che alla fine facciamo sempre la stessa cosa che abbiamo fatto su PC E non capiamo però il succo Vale oppure no sto gioco su console? Conviene acquistarlo oppure no, Poderak? Quindi ho preso quel gameplay, non lo buttiamo Usciranno qui alcuni clip che vi fanno vedere graficamente come si comporta su Playstation 5 Non so su Playstation 4 come si comporta perché non ce l'ho Mi farete sapere voi nei commenti, Poderak L'ho acquistato su Playstation 4, gira una meraviglia Poderak l'ho provato su Playstation 4, funziona una meraviglia E lo scrivete qui nei commenti Senza alcun tipo di problema Allora, Police Simulator che cos'è? È un titolo molto interessante perché ti permette di vivere le vesti di un poliziotto americano C'è una bella differenza tra polizia americana e europea Quella americana con le sue regole Quella europea è un po' come dire Poderak, ti piace American Track o Eurotrack Simulator? Sapete già la risposta Ovviamente mi piace Eurotrack perché è più un titolo ambientato sul nostro territorio Stessa cosa per Police Simulator Seppur molto meglio rispetto a altri titoli Per esempio Autobahn Police Simulator Autobahn Police Simulator 3 è un gioco abbastanza infantile Cioè è abbastanza per i ragazzini dai diciamocelo Nonostante tutto però è ambientato in Europa Quindi quasi un apprezzamento migliore Nonostante meccanicamente e a livello grafico Police Simulator è molto molto meglio Perché abbiamo su PlayStation 5 una bella grafica Come da PC Cioè non c'è una differenza Io ho notato sia su PC sia su console PlayStation 5 almeno La grafica è perfetta Grazie a Unreal Engine Per esempio Autobahn Police Simulator È già sviluppato su Unity Quando senti sviluppato su Unity Già ti si rizzano un po' i capelli Però ci sono dei titoli che sono usciti bene da questa piattaforma Tipo Construction Simulator Dovrebbe essere sviluppato su motore Unity Eppure è un bel gioco È un bel gioco Comunque torniamo Noi non stiamo parlando di Autobahn Police Simulator Perché anche lui ci sarebbe un video da dedicarci Per una recensione Comunque noi ci stiamo concentrando su Police Simulator Gioco dove tu vesti le vesti di americano E che cosa devi fare Devi svolgere determinate mansioni Quello che vi anticipo già Non mi è piaciuto Ma neanche su PC È il fatto che tu vieni buttato direttamente in strada E cresci Riesci a fare determinate cose da poliziotto Solo dopo acquisito una determinata esperienza Esperienza che riesci a ottenere all'inizio Facendo solo multe su multe su multe Cosa che però ti comporta A fare per ore questo lavoro Quindi per quanto riguarda le multe Devi stare lì 3-4 ore a fare multe Per iniziare Man mano almeno ad arrivare All'auto Perché finché non ottieni tot XP Facendo multe Non puoi guidare neppure l'auto Io avrei preferito più Che Tu mi dai la possibilità Di provare attraverso il tutorial Le funzioni base Come ad esempio Facendo una specie di scuola di polizia O poligono Così usiamo ste pistole da nazione In sto gioco è presente La pistola ma non la puoi usare quasi mai Se non come deterrente Per far alzare le mani al criminale E dire Oh fermati Non c'è un corso Che ne so Guarda Fa il corso per Utilizzare l'auto della polizia Perché nella realtà Non è che tu guidi le auto della polizia Per avere Questa possibilità Devi avere una specie Di patentino Corso Per poter guidare le auto della polizia Il gioco Si fa un tutorial Ti spiega come fare le cose Non è che non te le spiega Però Capisci Diventa già fin subito noioso E le cose Iniziano a diventare interessanti Solo dopo 5-6 ore Di Multe Infatti questo gioco Secondo me Se non lo giochi In multiplayer Davvero C'è il rischio Che lo abbandoni Dopo neanche due giorni Dall'acquisto Se giochi in multiplayer Già inizia a diventare Più simpatica La situazione Perché giochi Con il tuo collega Che è Nonché tuo amico O amica E il gioco Diventa più divertente Seppur E seppur Fai continuazione Molta Parlando su discord Eccetera Comunque ti diverti Lo stesso Il problema di questo gioco È che Graficamente È boh È boh È un real engine E raga Non possiamo dire niente Graficamente Anche su console Si comporta bene Non so Playstation 4 Vi ripeto Su Playstation 5 Comunque Io ho notato Davvero Un ottimo Lavoro E Quello che però Tornando all'aspetto Gameplay Non mi è piaciuto È il fatto che Comunque Seppur è open world Cosa significa open world Significa che Sei libero di muoverti All'interno della mappa Tranne all'inizio Che comunque Sei circoscritto Poi man mano La mappa si allarga Puoi andare dove vuoi Anche le missioni Non sono mai uguali Ma sono ripetitive Che cosa significa Che Le multe Tutte quelle cose Sono basate su Tipo Spawn Casuali All'interno della mappa Quindi Difficilmente Troverai lo stesso incidente La stessa auto Da multare Nei tuoi gameplay Anche dopo diverse ore Difficilmente ciò accade Perché È tutto random Quindi C'è sempre Dinamicità Il problema è che La meccanica Per fare le multe È sempre la solita La meccanica Degli incidenti È sempre il solito Per le multe Vabbè È anche così Nella vita reale Non è che dici Cambia Però È ancora abbastanza limitato Sarebbe bello Vedere Altre cose Più random Che succedono Non sempre la solita cosa Ma soprattutto Per gli incidenti La maggior parte Degli incidenti Sono incidenti Di tamponamenti Ok Cambia il veicolo Cambiano le persone Cambia la causa Dell'incidente Una volta trovi L'ubriaco Una volta trovi Il drogato Una volta trovi Solo quello Che stava Al telefonino Il problema È che sono sempre Queste tre In modo random Ma sono sempre Queste tre E il metodo Del tamponamento È sempre lo stesso Ogni tanto c'è un incidente Di due macchine Un incidente Di tre macchine Ma che ne so Non c'è mai l'incidente Che ne so L'auto che si butta Contro il guardrail L'auto che si è ribaltato Oppure L'auto Che è finita Dentro la vetrina Di un negozio Insomma Non trovi mai Questa dinamicità Ci sono questi tre incidenti Seppur Sempre diversi Perché non trovi mai Sempre la stessa auto Non trovi mai Le stesse persone Sono comunque I soliti tre Incidenti Che cosa succede In tutto questo Succede che Il gioco Tendenzialmente Ti fa fare Sempre le stesse Identiche cose Solo che Man mano che acquisisci L'XP Il titolo Ti sblocca Determinate opzioni Per esempio Dopo un totto Sblocchi la possibilità Di guidare Le auto Ecco Una cosa che forse Non mi è piaciuta Su console Mi hanno messo Le auto Come DLC Poi dopo un po' Puoi usare La paletta Non ho capito Per quale motivo Non mi piace Questa meccanica Ok Quindi per Utilizzare tutte le funzioni Insomma Devi in continuazione Fare molto E qua E là E un po' così Anche quando Per dire La pistola Non viene mai utilizzata Non c'è mai Una situazione Di azione C'è si Il borseggio Ma La pistola Non la utilizzerai mai Non utilizzerai mai Il taser Pur l'hanno aggiunto Ma non Sono strumenti che ci sono Di normale Poliziotto Ma che nel gioco Concretamente Non utilizzerei mai Perché Il funzionamento Del borseggio È sempre il solito Devi chiamare Le tre persone C'è quello che sa Ti dà un identikit Lo devi cercare È sempre la solita Minestra E Questo insomma Che cosa Ti rischia di fare Che se sei un appassionato Ti va pure bene Non ti interessa Lo continui a fare Fino a che Non ti annoi Se invece Acquisti il simulatore Giusto per dire Provo qualcosa di nuovo E Cerco di mantenermi Impegnato Ecco Sono 39,99€ Di titolo Che però Secondo me Tendenzialmente Dopo una settimana Non lo giochi più Su PC È uscito dall'early access Questo mi fa pensare Che il gioco Da oggi in poi Verrà sempre meno Supportato Dal team di sviluppo Quindi ha raggiunto Il suo culmine Di sviluppo A meno che Su console Io alzo le mani E magari esplode Sto facendo Sto dando Queste opinioni Poi invece Il gioco esploderà E sarà strafico Però Sì È bello Meccanicamente È bello Graficamente Ma noioso E Secondo me 39,99€ Per questo titolo Sono tantini Il problema delle console Che a differenza Del PC Quando ci sono Questi giochi Su PC Dopo pochi giorni Sono già in offerta Costano poco Su console Si è quasi costretto Anche dopo Tante settimane Dall'uscita Tanti giorni A pagarlo A prezzo pieno 39,99€ E Paragonando I 39,99€ Ad altri titoli Per esempio Io mi immagino Un Farming Simulator Un Construction Simulator Che Meccanicamente Graficamente Sono Allora Non tanto Construction Construction Anche lui Finchè non ci sono le mod Un po' È un gioco così e così Comunque Farming Simulator Invece ci sono le mod È un gioco veramente infinito Tu spendi 39€ Ma sai che Magari è un gioco Che ti tiene impegnato Per un anno Perché grazie alle mod È completamente supportato Questi titoli Purtroppo A 39€ Sono giochi Che giochi Per un po' Ma abbandoni Quindi un po' Ti senti E buttati i soldi Ecco Questa è la sensazione Che hai Concludendo Cosa ne penso Acquistatelo solo Se siete dei veri appassionati Oppure È in sconto Quello sì Ma Se volete un gioco Per Perdere a lungo termine Del tempo E divertirvi Insomma Forse non è Un titolo Che Terrei in considerazione Detto questo Spero che Questa recensione Sia stata utile E fatemi sapere Cosa ne pensate Con un bel commento Se riesco A trovare il titolo Da qualche parte Qualche sito Vi lascio il link In descrizione Se no Li trovate direttamente Nelle corrispettive Piattaforme Di console E noi ci vediamo Alla prossima Ciao